Coronavirus sono 339 le positività attualmente presenti in provincia di Belluno con tre ricoveri all'ospedale San Martino. In giornata è stato fatto il punto della situazione per quel che riguarda la stagione invernale, con particolare riferimento alle esigenze degli sciatori. Si è tenuta infatti una prima riunione che ha visto protagonisti il presidente della provincia Padrin, la direttrice dell'Ulss Carraro, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Cinquetti assieme ad ANEF, ai rappresentanti delle schiare a del territorio e gli amministratori interessati. Ne è emerso che provincia, ULSS e consorzi degli impiantisti studieranno un modello di convenzione per mettere in campo un servizio di tamponi dedicato ai frequentatori delle piste da sci sprovvisti di Green Pass. Abbiamo raccolto le richieste del settore del turismo invernale che ha la necessità di ripartire dopo quasi due anni di fermo, ha commentato il presidente Padrin. Per un territorio come il nostro lo sci non è solo divertimento e sport ma rappresenta una voce fondamentale nell'economia locale. Il progetto si concretizza in un accordo tra sistema del turismo e un soggetto privato erogatore del servizio tamponi con la collaborazione dell'Ulss per quanto riguarda la gestione dei punti tampone già attivi a Tai di Cadore e Agordo, oltre a quelli di Paludi e Feltre e dell'eventuale presa in carico di soggetti risultati positivi al test e con il coordinamento di Palazzo Piloni. E il sistema ha un precedente, dato che si è concordato di riutilizzare le stesse risorse messe in campo durante i mondiali di Cortina, quando furono effettuati 26.000 tamponi in poche settimane. Il compito degli operatori turistici sarà ora quello di individuare i numeri stimati di chi avrà bisogno di sottoporsi a tampone, in particolare i turisti che arrivano da paesi esteri. Abbiamo già cercato di mappare le aree ad alta concentrazione di turismo straniero, ha spiegato l'ex presidente di ANEF Veneto Renzo Minella. Sappiamo che il servizio non sarà facile da organizzare ma avrà un impatto molto forte sull'immagine che dà la nostra offerta turistica perché un servizio tamponi ben organizzato potrà essere annoverato tra i punti di forza del nostro sistema territoriale.